La Valle Scura Monte dei Cambio è quello là giù in fondo su un cibo Lì dobbiamo arrivare No, quello giù in fondo che vedete Lì sopra lo dobbiamo arrivare La mia crepa là dentro al quarto Un limite massimo Sì, ecco Siamo nella Valle Scura Accendere la luce Sì 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 Allora, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.